Attivazione tecnico coordinativa, iniziamo, attacchiamo a destra le piattelle, primo tratto, prima piattella, aspa centrale, campana, secondo tratto, suola suola, come arriva la piattella? Come è? Accelerazione e ventina, ok? Campana, campana, suola su, campana, suola su, inocchio fuori quando arrivate, andate, 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 bravo, la seconda volta che riparti è inverso, quindi fai suola, suola, di contatto, campana, seconda, fuoco, tutto, mister, mister, quella abbiamo fatto noi, con la suola, data esci fortemente, e fatti subito, ma te è veloce, tutto veloce, partendo, 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 suola 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 suola, secondo tratto, combinazione, campana, campana, suola suola, i quattro tempi, via! Veloce, 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 uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, bravo, curatevi l'uscita, inverso, quattro tempi, suola sopra, e avanti, primo tratto, solo destro, interno e esterno, interno e esterno con il testo, prima volta, sinistro e secondo tratto, vai! Seconda volta, inverso! Dai, dai! Ora, la prima volta, attaccate a testa, a sinistro, doppio, 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 esterno e scopo, ok? Quindi, flalom, solo le prime due mi accenna, al ritorno, fianco, sinistro, solo su, via! 1, 2, 1, 2, 2, anche all'esterno, 1, 2, scopo, 3, 1, 2, 1, 2, supero! Vai! A sinistra, 1, 2, vai, vai, lo strano, non restiamo in merito le piattette, fa lo strano, non resta le piattette! Doppio, 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 interno, uno, solo, esterno, via! Doppio, 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 due, 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 due uno solo interno, doppio esterno, esco, via uno solo interno, doppio esterno e vado forte uno, sta, uno, doppio esterno ciao, grazie uno interno, uno, due allora, percorso, percorso, va tre tempi, subito tre quadrante, e si tocca e si fa la testa, portate palla avanti lascio palla all'asta centrale, apro il corpo guardo il pallone, scappo, pulso il sinistro riprendo palla e esco forte seconda volta invece non perdiamo mai di vista la palla quando lasciate il pallone, corpo a vento fare che lasciate la palla, correte tutti in fronte scappo, hop, e vado ora, tempo di partenza quando il compagno ha lasciato il pallone all'asta partiamo dai, 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 dai già fa bene, non perdo mai ti vista il pallone ora, due tempi ora, due tempi ora ora c'è tutta l'articulente l'articulente la seconda volta l'articulente 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 lasciamo l'articulente come prima lascio qui e scappo dire lascio qui vado all'asta e poi esco forte col pallone fuoco l'articulente 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 la ciao ragazzi iscrivetevi al canale cerca guys lasciate un commento e iscrivetevi anche su TikTok e Instagram grazie